Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video di preparazione al TFA sostegno, ottavo ciclo. Entrando su YouTube e cliccando su Francesco Samani, è possibile visualizzare più di 150 video specifici per la preparazione al TFA sostegno. E devo dire che dopo tanti anni sono veramente tanti, sono migliaia i docenti che si sono avvalsi di questi materiali per prepararsi. E potete anche leggere poi i commenti senza che insomma vi dico io insomma quello che pensate, quelli che pensano gli insegnanti ormai specializzati da anni di tutto il percorso che è stato fatto insieme. Bene, inizia un nuovo ciclo, ormai siamo già all'ottavo, mi sembra ieri quando preparavo e sostenevo il terzo, in realtà il secondo, poi il terzo è stato un altro TFA che ho voluto seguire. Bene, quello che vi chiedo è che se vi piacciono questi video o soprattutto se li ritenete utili, ovviamente condivideteli con i vostri colleghi e potete iscrivervi al canale e lasciare un bel like. Per me questa cosa può essere di grande valore. Iniziamo il video parlando dell'apprendimento collaborativo. In particolare è stato chiesto all'università di Bari e di Cassino, quindi è stato chiesto in alcune università nella prova scritta e in altre nel prova preselettiva. Guardate bene che nella prova preselettiva il quesito potrebbe, o la domanda, potrebbe anche essere posta con la negazione. Ad esempio, quale caratteristica dell'insegnante non è opportuna per costruire un clima nel quale vi sia, o nel quale sia presente l'apprendimento collaborativo. Quindi non sempre le domande o comunque le richieste sono poste con, cioè con sentenze, con frasi affermative, a volte anche con il non. Nello specifico è stato chiesto quale caratteristica dell'insegnante non è opportuna per costruire un ambiente di apprendimento collaborativo. E ovviamente la risposta è irremovibilità. Però cerchiamo di capire perché, anche considerando il fatto che ovviamente potrebbero essere poste domande simili, similari, però con costrutti diversi. Quindi sicuramente andare a studiare, a prepararsi a 360 gradi, andando a capire anche in maniera più intima il significato dell'apprendimento collaborativo, può essere funzionale poi per prepararsi a meglio a questi esami. In realtà sono ben tre. Ovviamente cerchiamo di ragionare. Un apprendimento collaborativo è una modalità di apprendimento nella quale viene valorizzata la collaborazione. Ci troviamo in un gruppo collaborativo e che cosa accade? Vi è un'interdipendenza positiva tra i membri del gruppo, focalizzata alla realizzazione del compito. Ogni elemento del gruppo deve avere un senso di responsabilità sia verso se stesso, sia verso il gruppo, che verso il raggiungimento degli obiettivi. Io aiuto te, che tu aiuti me. Quindi mutuo aiuto. Anche in questo si vede la collaborazione. In un contesto di apprendimento collaborativo è di fondamentale importanza la figura del tutor, che è colui che di fatto facilita, organizza, monitora lo svolgimento di tutte le attività didattiche con la coesistenza ovviamente degli elementi precedentemente detti, quindi interdipendenza, responsabilità, mutuo aiuto, mutuo soccorso. E quindi il tutor monitora l'avanzamento dell'attività didattica e soprattutto anche che il clima di collaborazione sia affine all'apprendimento collaborativo. Una didattica collaborativa è molto importante perché ha delle caratteristiche nelle quali essenzialmente con l'uso ovviamente della didattica collaborativa vengono facilitate, viene facilitata l'acquisizione delle competenze di ascolto. Sì, perché in un team, in un gruppo, per poter raggiungere determinati obiettivi e per poter cooperare ovviamente bisogna sapere ascoltare molto bene tutti gli elementi del gruppo e quindi anche un'altra competenza che viene a svilupparsi è quella di saper lavorare in gruppo che è una competenza molto importante soprattutto anche in ambito futuro in quanto ovviamente poi molti equip di studio, di processo, di realizzazione, e molti impiegati, molte realtà sociali funzionano bene se funziona bene poi l'esistenza e la coesistenza degli elementi che collaborano in maniera positiva. Allora, aggiungiamo un altro tastiere al nostro mosaico, l'apprendimento collaborativo, in inglese viene detto collaborative learning ed in particolare l'apprendimento collaborativo trova le sue radici nelle teorie dell'apprendimento sociale. Una domanda interessante sempre in tema è quale può essere la differenza tra collaborazione e cooperazione? Nella collaborazione abbiamo che tutti gli elementi del gruppo e del team partecipano per raggiungere un target mentre nella cooperazione vi è una suddivisione dei compiti. Ovviamente soprattutto nella scuola può essere più utile la collaborazione affinché ognuno impari tutto però è facilitato nell'apprendimento perché viene aiutato dagli altri e in particolare questo tipo di approccio didattico è un approccio di tipo inclusivo nel quale ovviamente ci sarà una figura, un elemento del gruppo che ne sa più degli altri però tende ovviamente a condividere la propria conoscenza e ne trae ovviamente vantaggio anche perché spiegare agli altri significa imparare le cose ad un livello ovviamente sicuramente più elevato. Suddividere i compiti spesso invece si è visto che può portare a una facilitazione nel risolvere dei problemi quindi nel migliorare nel problem solving perché ognuno con la propria intelligenza dà il proprio apporto e quindi vede una problematica da un punto di vista diverso e la cooperazione in tal senso si arricchisce di diversi spunti ed elementi che portano poi ad arrivare alla soluzione di un problema. Queste metodologie o meglio ancora metodi di apprendimento ovviamente sono dei traguardi non è che ci svegliamo la mattina andiamo in classe e proponiamo alla classe una didattica collaborativa e improvvisamente la otterremo. Ovviamente bisogna avere determinate accortezze, suddividere la classe in piccoli gruppi eterogeni però andando a inserire elementi che si preveda possano collaborare condividere i principi di apertura mentale far comprendere l'importanza dell'ascolto l'importanza quindi anche della collaborazione far capire che ogni elemento del gruppo è importante e non bisogna aver paura di condividere le proprie idee anche quando sono sbagliate perché anche nell'errore si impara e quindi anche sbagliare o aprire nuovi spazi e nuovi scenari per accendere ed alimentare connessioni nuove e nuove relazioni tra problema e soluzione. Bene che dire, ero talmente tanto emozionato di ricominciare con questo percorso che ho iniziato con un elemento di apprendimento collaborativo e sono già giunto al termine anche perché non vorrei annoiarvi quindi facciamo così nei commenti qui sotto ditemi anche che cosa volete approfondire o semplicemente seguitemi se non sapete esattamente su che cosa dovete prepararvi e aspettate qualcuno che vi dia dei segnali o che comunque vi dia delle informazioni utili. Io con questo vi ringrazio aspetto comunque in ogni caso un vostro feedback vi auguro una buona continuazione di giornata e vi auguro un caro saluto da Francesco Samani.